Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo un XI, più 3,79%. Le più forti vendite si manifestano su Montlare, che prosegue le contrattazioni a meno 1,75% Sulla piattaforma americana del CMI, seduta positiva per il petrolio, che mostra un guadagno dello 0,78% Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il PMI composito dell'Unione Europea, pari a 53,2 punti Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle scorte di petrolio. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le richieste del sussidio di disoccupazione Si attende dalla Cina la diffusione dei prezzi al consumo, previsto venerdì Si attende un avvio positivo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 punti Grazie